Il gap diminuisce ma le differenze restano. Al centro della questione c'è la disparità di salario fra uomini e donne. Secondo il Gender Gap Report 2019 realizzato dall'osservatorio Job Pricing a parità di lavoro e quindi di mansione rispetto agli uomini, una donna è come se cominciasse a percepire dei guadagni dalla seconda metà di febbraio. Negli ultimi anni le differenze si sono assottigliate. Dal 2016 al 2018 infatti il gap retributivo è diminuito del 2,7% ma la situazione attuale dice che il divario rimane comunque molto ampio. Numeri alla mano si tratta di 2.700 euro lordi pari al 10% in più a favore degli uomini. Valori che secondo i dati Eurostat ci posizionano al 17esimo posto nella classifica di 24 paesi per ampiezza del Gender Pay Gap nel settore lavorativo privato. Un sondaggio del Washington Post e ABC News ha rilevato che a luglio l'indice di approvazione del presidente Donald Trump tocca il suo massimo, il 44%, di molto superiore al dato di aprile, 39%. Tra gli elettori registrati la percentuale è cresciuta dal 42 al 47%. Nonostante l'aumento di supporter, la maggioranza degli americani, il 53%, continua a disapprovare l'operato del presidente Trump. Più di 6 americani su 10 infatti ritengono che, dal suo insediamento alla Casa Bianca, abbia agito in modo non presidenziale. La Information Commissioner's Office, autorità britannica per la privacy e la tutela dei dati, ha annunciato una maximulta per la British Airways che ammonta 183 milioni di sterline, corrispondenti a circa 204 milioni di euro. Dopo che a inizio 2018 degli hacker avevano violato il sito della compagnia britannica, carpendo dati personali e coordinate bancarie di 380 mila passeggeri. Chiamatela, se volete, pubblicità ingannevole. Negli anni ce ne sono state molte, anzi moltissime. Un brand o una società pubblicizza un proprio prodotto mostrando caratteristiche e capacità che vanno, diciamo, un filo oltre le reali potenzialità. È il caso di Samsung che, secondo la Commissione australiana per la concorrenza, i consumatori avrebbe mentito sulla resistenza all'acqua dei propri smartphone. L'autorità tutela dei consumatori in una nota diffusa, imputa alla compagnia sudcoreana rappresentazioni false e ingannevoli nelle pubblicità dove, sottolinea, gli smartphone vengono mostrati non solo come waterproof, quindi resistenti all'acqua, ma anche utilizzabili in piscina o mentre si fa surf e quindi resistenti all'acqua salata e a quella addizionata di cloro. Il caso per cui la compagnia rischia una multa milionaria vede l'autorità contestare circa 300 spot dal febbraio del 2016 in poi. Secondo la Commissione, l'azienda non ha realmente testato le conseguenze sui dispositivi delle esposizioni ad acque diverse. Da quella dolce al tempo stesso sconsiglia l'utilizzo degli stessi smartphone in spiaggia o in piscina. Grazie a tutti.